Cari amici, ieri pomeriggio un'amica, Martina, mi ha inoltrato questa lettera. Stefano Florio ha insistito perché la leggessi ed ora eccomi qui. A me ha commosso dalla prima lettura. Di Alex Corlazzoli, del suo blog sul Fatto Quotidiano. Lettera ai miei allievi. Oggi hanno bocciato il maestro. Cari allievi, oggi il vostro maestro è stato bocciato. Sì, avete letto bene. Il Ministero della Pubblica Istruzione, al concorsone, mi ha rimandato. Il maestro, che ogni anno entra in classe insegnando storia, geografia, musica, educazione all'immagine, informatica, scienze, dopo aver passato un concorso e ottenuto l'abilitazione nel 1999, non ha passato il test di preselezione che è stato costretto a fare per tentare di non essere più precario. Un personal computer, non una persona, ma un personal computer, in 50 minuti ha deciso che io non potrò continuare a essere il vostro maestro ogni anno, ma sarò destinato ancora a girare come le giostre da un paese all'altro. Con me sono stati bocciati 6 su 10 che hanno provato. Su 22 persone che erano in aula, solo 9 sono state promosse. Volete sapere che cosa hanno chiesto? No, non ho il coraggio di dirvelo, cari allievi. Voi state immaginando domande sulla didattica? Su come si trasmettono a voi la storia, la geografia, l'educazione civica? State immaginando che mi hanno interrogato per sapere come vi insegno a usare internet, le mail, i social network, che il 74% di voi utilizza? No, nulla di tutto questo. Mi hanno fatto un quiz. Come quelli che fate voi quando vi costringono a fare i test degli invalsi, più o meno. Per sapere se so fare il maestro, mi hanno chiesto. Pamela, Fiona e Gina sono tre ragazze new yorkesi. Stanno prendendo il sole in una piscina della loro città. Pamela indossa un costume intero. Fiona legge un libro. Pamela e Gina sono cugine. Dovevo indovinare la risposta esatta tra queste quattro. Fiona è una studentessa universitaria. Pamela è grassa. A Roma non sono le nove del mattino. Pamela e Fiona sono cugine. Lo so che state ridendo, ma i vostri maestri oggi non hanno il sorriso. Dicono che si chiama logica, cari ragazzi. Eppure domani dovrò tornare in classe in una scuola illogica. Mi hanno bocciato. Ma per qualche mese servo ancora il signor ministro, che avrei voluto vedere fare un test con me. Domattina tornerò tra voi. Continueremo a leggere il quotidiano insieme, a imparare la Costituzione e la democrazia con i consigli comunali di classe. Parleremo ancora di musica, senza suonare il piffero, ma ascoltando Fabrizio De Andrè e Giorgio Gaber. Vi insegnerò scienze, portandovi alla fiera del consumo critico a Milano. Cercherò di ascoltare ancora i problemi di quelli che tra voi hanno la mamma e il papà separati. Di chi non riesce a studiare perché a casa non c'è nessuno che lo può aiutare, visto che mamma e papà parlano poco l'italiano, ma molto bene l'arabo. No, non mi sono dimenticato. Anche se non so bene rispondere al quiz di Fiona, Gina e Pamela, anche se la nostra scuola italiana non ha i soldi, continuerò a organizzare il nostro viaggio di istruzione al Parlamento a Roma o sui beni confiscati alla mafia in Sicilia, cercando soldi tra qualche imprenditore. Andremo ammirandola, a incontrare i bambini che vivono nei container, perché per noi parlare di Emilia è anche questo. Non preoccupatevi, quel signore che si chiama Francesco Profumo forse non ama veramente la scuola, ma il vostro maestro prova ogni giorno ad amarla. Ogni giorno. Anche se è stato bocciato. Allora. 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 Grazie.